Ciao ragazzi, allora di nuovo insieme, oggi ho Fretless in mano perché le ultime richieste riguardano principalmente questo strumento e sono molto varie, quindi ho deciso di fare più che una lezione, un mini corso a riguardo di questo magnifico strumento e di tutte le tecniche, tutti i suoni che possiamo ottenere, come ottenerli, l'intonazione, mi è stato chiesto un sacco di cose, cercherò quindi, non so quante lezioni ne verranno, comunque in questo mini corso con allegato un pdf di rispondere e chiarire tutti questi quesiti. Allora, partiamo dalle basi proprio, perché una domanda è stata, la colgo e la utilizzo per l'introduzione, è stata come mai ti sei innamorato così tanto di Fretless perché chi mi conosce un po' meglio sa che ora purtroppo parlare di live è difficile, però io negli ultimi parecchi anni, in quasi tutte le band con cui ho suonato, quasi tutti i concerti, ho utilizzato esclusivamente o quasi il basso senza tasti. Perché è nato questo amore? Per vari motivi. Il primo, mi sono sempre piaciuti gli strumenti, diciamo, tra virgolette classici, quindi strumenti appunto Fretless, ovvero violoncello prima di tutto, anche il contrabbasso, anche la viola, strumenti ovviamente dove accorda, dove non esistono i tasti, anche se poi è stato inventato anche il contrabbasso con tasti, eccetera. Comunque, in linea di massima uno dei degli aspetti che mi ha portato a innamorarmi di questo strumento, proprio, diciamo, l'amore già in partenza per strumenti, chiamiamoli ad arco, comunque strumenti classici, diciamo, quindi io adoro il suono dell'uncello, adoro il suono del contrabbasso, quindi di conseguenza il basso Fretless è stata una scelta, essendo già bassista, una scelta logica e naturale. Cosa mi piace in particolare di questo strumento? Le possibilità espressive che abbiamo con un basso senza tasti, che sono secondo me, a mio avviso, poi, ripeto, sono tutte cose soggettive e con il basso con i tasti si può fare quasi tutto, però, diciamo, gli abbellimenti che più mi piacciono a me, con il basso Fretted, con i tasti, sono difficili, se non impossibili, da replicare. Quindi parlo di vibrato, parlo di glissato, tutti quei, diciamo, gli slide, mi danno una marcia in più, diciamo, nella mia musicalità, ovvero quando faccio una linea di basso, che sia un accompagnamento, che sia un solo. Con il Fretless mi sento come se avessi un vocabolario musicale molto più ampio. Cosa che con il basso, con i tasti, invece, non ho, nel senso che le mie idee sono minori, le mie possibilità di esprimermi lo stesso. Quindi, questo è una cosa. In più, il sound, il sound che io ho con Fretless, anche se, ad esempio, questo basso è esattamente identico a questo, nel senso che ci sono stesse corde, gli stessi pick up identici, alla stessa altezza, stesso condensatore, tutto. Però io come schiaccio, come premo una corda su questo basso, già mi vibra, mi dà una sensazione di benessere a me stesso. Quindi, cosa che con i tasti, ovviamente, io suono un basso con i tasti, mi piace, lo adoro, però qui c'è proprio un un feeling diverso, ecco, anche il feeling con lo strumento. Non so se vi è mai capitato nella vita, in tutte le cose, come si dice, l'amore a prima vista. Una persona che appena la vedi scatta, no, la scintilla, oppure entrate in un'auto e dite, no, questa la voglio, perché magari c'è qualcosa che vi ha colpito in modo inusuale, diciamo, questo è un altro fatto. Poi, lo trovo molto più, diciamo, mi costringe, a me mi piace, mi piacciono le sfide, secondo me è più difficile, in un certo senso, suonare un basso fretless rispetto a un fretter, per un certo verso, per un altro no, però poi ci arriverò. A me piacciono le sfide personali, ovviamente, sfide con me stesso, e suonare fretless mi tiene sempre, diciamo, in guardia, ovviamente dalle stonature, ma anche da, dall'esse, se possibile, ancora più precisi sul, non solo sull'intonazione, ma su tutto quel che riguarda il suonare. Quindi mi piace anche questo aspetto qui. Infine, diciamo che il mio amore per Pastorius e anche per altri bassisti, come ne cito alcuni, Pino Palladino, Massimo Morricone, per rimanere in Italia, diciamo, Red Cancian, Depu, mi hanno fatto ancora più innamorare a questo strumento, perché ci sono delle linee di basso, io vi cito Volami nel cuore, vi cito Ci penserò domani, sempre rimanendo in Italia, se si fa sull'internazionale, inizio ora, smetto a Natale, ma del prossimo anno. Quindi anche i gusti musicali, i miei miti, mi hanno fatto ancora più innamorare di questo basso. Allora, andando poi al sodo, diciamo, questa introduzione, cos'è che realmente differenzia e perché un basso senza tasti da basso con i tasti? Mi direte voi, ovviamente uno non ha le barrette, uno sì. Ok, ma cosa comporta questo? Allora, innanzitutto, quando fu creato, questo magari è scritto meglio in pdf, quindi faccio un riassunto veloce, quando Leo Feld creò il primo basso elettrico, diciamo che molti contrabassisti, cioè molti, tantissimi contrabassisti dell'epoca passarono proprio al basso perché, a parte la comodità del strumento molto più piccolo, molto più facile da amplificare, essendo appunto un basso elettrico, c'era anche il discorso proprio dell'intonazione, quindi fu inventato il precisimo, che tra l'altro fu chiamato precisimo, perché è il primo basso, almeno questo è quello che so, proprio per il fatto che suonandolo si era più precisi sull'intonazione. Questo però, da un lato, sì, ha portato dei benefici assurdi, tant'è che molti bassisti hanno poi definitivamente lasciato o quasi il contrabbasso, cito James Jamerson, ma molti altri. Dall'altro lato ci siamo poi resi conto, o meglio, tanti bassisti dopo qualche anno sono resi conto che le possibilità sonore erano un po' ridotte rispetto al contrabbasso. Quindi fu inventato, credo, a metà anni Sessanta, il primo basso senza tasti, che ora non ricordo la marca, proprio per, diciamo, ricorrere un po' ai pari e ridare la possibilità ai musicisti di avere, comunque, le caratteristiche del contrabbasso, però su un basso. Quindi la offenda disse come, io ho inventato il basso con i tasti apposta per eliminare tutti questi problemi di intonazione, eccetera, e voi ne volete, lo rivolete, diciamo, senza tasti. A parte questa storia, poi, ci sono stati tantissimi bassisti che lo hanno abbracciato. Mi viene in mente, prima di Giacomo, anche se non prima, comunque, nello stesso periodo, che quando si dice che Giacomo è stato il primo bassista fretless, non è vero. Forse è stato il primo che, di sua spontanea volontà, ha preso un basso con i tasti e li ha tolti, l'ha reso fretless. Però i bassi fretless esistevano già, per certo, e i bassisti fretless esistevano già. Cito Patrick Givas della PFM, che credo sia stato, tra l'altro conosceva benissimo Giacomo, credo sia stato uno proprio dei primi, non solo in Italia, con la PFM, ma nel mondo a suonare il basso senza tasti. Quindi Giacomo è venuto dopo, poi è colui che, ovviamente, ha reso celebre questo strumento. E, dicevo, le differenze sono che, vi faccio un esempio, il glissato slide, come lo chiamate. Sul basso coi tasti, se io voglio passare, ad esempio, da un E a un F, anche se faccio scivolare il dito, quindi slide, passo esattamente, ovviamente con il basso accordato, dal E al F, quindi di un semitono. Non ho questo range, diciamo, di altezza delle note che va dal E al F, quindi i quarti di tono, decimi di tono, che siano. Tutta questa, tutte queste, diciamo, chiamiamole note intermedie, che mi fanno arrivare al F, quindi questa è la prima differenza. non utilizzare lo su F, è un po' come, insomma, avere un, che vi posso dire, avere una Ferrari e andare in bicicletta, insomma, viene proprio spontanea. Tutte queste, diciamo, questo è il primo elemento di abbellimento che abbiamo sul fretes, che già rende molto più cantabile una semplice linea di basso. Vediamo, viene a mettere la prima. Ho fatto uno slide qui, e uno per tornare in Do, ho fatto un Do. Se non facessi lo slide, vediamo. A mio gusto, è totalmente un'altra cosa. Vi anticipo un'altra cosa, poi per questo video mi fermo un attimo, il vibrato, scusate. Quando vedete un violinista, un violista, un violoncellista, almeno per me è la prima cosa a cui faccio attenzione, a parte, va bene, l'uso dell'arco, e quando muovono queste dita, ovviamente ci avrete fatto caso, no? Mi ha sempre stuzzicato questa cosa. Dicevo, perché suonano in continuazione con questo movimento più o meno rapido delle dita della mano sinistra. Ecco, quello è il vibrato, e che appunto possiamo, possiamo anche ricrearlo in qualche modo su basso fret, come ho spiegato nel PDF, però è un vibrato, diciamo, artificiale, un vibrato verticale, ovvero il vibrato non è altro che, diciamo, un'alterazione della nota più o meno ampia, diciamo, dell'altezza della nota, e più o meno breve, nel senso il vibrato può essere largo, quindi più, che dura di più, parole povere, o più stretto, più rapido, eccetera. Il fatto sta che l'unico modo col basso, con i tasti, per avere questa oscillazione, dell'intonazione, diciamo, a meno che non si cambi appunto semitono, non avendo queste parti intermedie, l'unico modo sul basso e con i tasti, quello è fare il famoso bending. In questo modo, allora, però, cioè, è impossibile suonare bending, non so se è il termine giusto, comunque, io lo chiamo vibrato verticale, perché si fa in su o in giù, insomma. È impossibile suonare una linea di basso melodica, mettendo su ogni nota, facendo questa cosa qui, quindi, diciamo che si può fare qualcosa su fretta, però, ovviamente, è diverso. Il vibrato c'è in molti... esiste... la tecnica del vibrato esiste in molti modi diversi, come dicevo prima, c'è il vibrato di polso, c'è il vibrato di avambraccio, c'è il vibrato stretto, vibrato largo. I musicisti classici, vi dico solo che passano anni dopo aver raggiunto un'intonazione per primo step all'intonazione, infatti nel prossimo video parlerò dell'intonazione. e per loro, il secondo, poi, step, comunque, è l'inizio dello studio del vibrato, che dura anni, quindi non è una tecnica che si impara così in due giorni. Appunto, ci sono vari modi per vibrare, ovviamente anche in base al contesto, diciamo che non bisogna mai limitarsi a vibrare con un dito solo, ma bisogna saper vibrare con tutte le dita, comunque questo lo vedremo più avanti. e poi parleremo anche del sound. Altra cosa che mi è stata chiesta tantissime volte, diciamo, te come fai a vedere questo suono alla Pastorius? Ora cercherò di ripetere, cioè cercherò di spiegarmi meglio, io magari avessi il suo suono, ma lui era lui, io, nel mio piccolo, sono io, è solo che l'ho ascoltato talmente tanto e ho suonato talmente tanto i suoi brani che era una logica conseguenza che, diciamo, il timbro in linea di massima diventasse, diciamo, non simile, ma su quel tipo lì, diciamo, però non è che lo copio o cerco di riavere il suono identico in tutti i modi. Primo perché, ripeto, non sono lui, quindi non ho le sue mani. Secondo, non ho la sua strumentazione, perché io non uso niente, ora poi vi farò vedere. E terzo, non mi interessa nemmeno un granché, diciamo, un suono che mi piace a me, mi rende felice, poi si assomiglia più o meno al suo, siate voi che me lo fate notare, ma diciamo che io sono un po' perplesso su questa affermazione, anche se sono onorato, per carità. Quindi parleremo un po' di tutto in questo minicorso, quindi oggi mi fermo qui, anche se sono già a lungo, come sempre. E se lo trovate interessante, mi mettete un pollicino su, se invece vi fa cacare, ditemi almeno cosa posso migliorare nelle mie lezioni. Quindi, oggi è Natale, non so quando andrà, quando riuscirò a montare questo video, comunque auguri a tutti, sicuramente per un buon 2022, e ci vediamo al prossimo video. Grazie.